Ciao Martina, ciao Carmelo, benvenuta a Mosca, benvenuta qui al Global Permanent, sono davvero felice di vederti finalmente qui, per favore ti chiedo di presentarti e di dirci qualcosa di te. Ciao Carmelo, sono Martina Ceramicoli, vengo da Roma, Italia, sono molto onorata di essere qui oggi al Global Permanent, ringrazio l'organizzazione, Andrei e Giulia. Dicci qualcosa di te, dici perché hai scelto il trucco semipermanente, dici com'è iniziato e raccontaci qualcosa di te. Ho iniziato esattamente due anni fa, in un periodo un po' così della mia vita, ero stanca di fare quello che facevo, passavo, avevo appena partirello di mia figlia, quindi avevo poco tempo a disposizione e l'unico mezzo che me rendeva felice era questo, quindi presi la palla al balzo e iniziai questo corso, il primo corso che feci era esattamente due anni fa, ho iniziato così un po' per gioco perché non credevo che poi potesse svilupparsi tutto questo. Sono Master per G Academy della tecnica Powderstroke, una tecnica di Giorgita, sono molto fiera di insegnare questa tecnica proprio perché l'idea da lei, poteva darla a chiunque e invece ha scelto me e quindi sono molto fiera. E invece raccontaci qualcosa del tuo studio, del tuo centro, dici quali sono le clienti che generalmente si rivolgono a te. Allora io opero a tratto di tutte le mie clienti in zona tuscolana, Roma. Le mie clienti sono clienti giovani, dinamiche, donne in carriera e donne che hanno voglia di essere belle. O di diventare belle grazie a te. O di migliorare la loro bellezza. Quindi vengono da me, chiedono trattamenti di microblading, spesso chiedono trattamenti di microblading, poi parlando, capendo un po' le loro esigenze, ci rifugiamo molto in questa tecnica che insegno perché vogliono comunque un effetto naturale ma che nello stesso tempo sia definito e quindi nulla che si abbina al microblading come la sfumatura renderà un lavoro perfetto. Perfetto. Martina invece dici qual è il prezzo meglio dei tuoi trattamenti all'interno dello studio? Allora il costo dei miei trattamenti è più o meno sui 400-500 euro e il Roma è molto satura di questo. E pensi che questo costo sia un costo giusto? E questo costo è un costo ragionevole perché comunque unisce la portata un po' di tutti perché ci sono moltissime ragazze che si affacciano a questo mondo, giovani, quindi non ancora fermate nel mondo del lavoro e quindi credo sia un buon compromesso. E invece se dovessimo dare dei consigli alle ragazze che si avvicinano per la prima volta al mondo del trucco semipermanente o che già magari operano nel mondo del trucco semipermanente e dici tutti i segreti o qualcosa per incoraggiarle. Allora per chi deve approcciarsi che non perdesse tempo. Ok. È un lavoro dinamico e che cattura la tua vita perché hai sempre voglia di tatuare. Per chi già lo fa e quindi già è catturato da questo, formazione, tanta formazione, perché è un lavoro che è in completa evoluzione giorno dopo giorno, quindi qualunque perdita di studio è un tassello mancante nel bagaglio culturale. Quindi non fermarsi mai, non volare mai. No, come ho fatto io. Allora Martina ti ringrazio tantissimo per questa intervista, grazie per essere venuta a Mosca, sicuramente ci vedremo al prossimo congresso, al prossimo Global Permanent e ti aspettiamo. Con estremo piacere. Grazie. Grazie a voi. Grazie.